Quindi proviamo direttamente a fare il twist e il reach e a risalire. In modo molto ovvio e logico, a mio avviso così si mantiene la stessa lunghezza che Carlotta aveva trovato nel reach, nel twist e reach. Di nuovo il focus per me non è tenere giù quest'anca ma è mantenere la lunghezza dalla punta del piede. Addirittura questo esercizio nella sua fase avanzata prevede un twist totale in cui l'anca opposta si solleva e dovrei riuscire a mantenere talmente tanto lunghezza e distribuzione. Ecco qua, questo è proprio il twist e reach ideale. Fanno ancora 1 e 1, quindi la stabilità mi è data dai piedi e questo twist completo permette alla colonna, se vedete bene il viso di Carlotta capite quanta intensità aggiunge questa versione. Quando sono forte nel twist e reach posso costruire l'around the world, vai leggermente più indietro. Vedete anche quando il bacino viene staccato, il corpo tende a scivolare un pochettino da praticare in modo proprio da mantenere la lunghezza e l'aggancio dai piedi che ti permetta anche quando il bacino è sollevato di mantenerti stabile. Grazie